Altro comune chiamato le urne è quello di San Salvo. Sono tre i candidati a sindaco, 12 le liste. A San Salvo infatti si candideranno Emanuela De Nicolis, Fabio Travaglini e Giovanni Mariotti. Emanuela De Nicolis è appoggiata oltre che dalla sua lista, San Salvo è, anche da San Salvo Città Nuova, Lista Popolare e Noi San Salvo. Fabio Travaglini è sostenuto dalle liste più San Salvo, Partito Democratico, Sinistra Civica Ecologista, Partito Socialista Italiano e da Azione Politica. Giovanni Mariotti è appoggiato da Democratici per San Salvo, Cambiamo San Salvo e Avanti San Salvo.